E buonasera a tutti e grazie per esserci anche per questo appuntamento che con estremo impegno mi prefiggo di mantenere settimanale. Prima di parlare di Richard Garner, lo statunitense psichiatra e così usava dire Richard Garner, però fatemi fare un cenno alla recente movimentazione del Comitato No Pillon che in tante città italiane si è espressa contro le corbellerie del senatore leghista Simone Pillon. Diamo voce alle vittime, incoraggiamo le vittime, fortifichiamo le vittime, ricordiamoci che stiamo rappresentando loro. Il materiale prezioso di contrasto lo conoscono principalmente loro. Se in piazza facciamo parlare genitori di figli contesi uccisi da uno o dall'altro genitore perdiamo di vista l'obiettivo della battaglia contro la proposta di legge di questo senatore leghista. È chiaro? Pillon cos'è che vuole? Vuole la mediazione perché vuole che in mediazione si maneggino per l'appunto figli vivi e noi di quelli dobbiamo parlare, di quelli dobbiamo occuparci. Massimo rispetto ovviamente per chi ha subito un lutto ma se non vogliamo commemorare altre infauste perdite, rimbocchiamoci le mani, perché anche questa volta sono in diretta, rimbocchiamoci le maniche e concentriamoci sulla prossima vittima. La prossima vittima è esattamente Laura Massaro, vive con il terrore di vedersi portare via il figlio perché alcuni illuminati che sposano in pieno le teorie di Richard Garner, poi ve ne parlerò, vogliono prima levarle il figlio alla madre ovviamente, poi inserirlo in una casa famiglia, una di quelle che costano 50, 100, 200, fino anche a 400 euro al mese, vogliono resettare questo bambino, ossia vogliono cercare di disabituarlo alle cure della madre per poi collocarlo come un robot programmato alle cure del padre e una volta collocato dal padre la madre dovrà attendere diversi mesi e dovrà vederlo monitorata, sorvegliata soprattutto. Ma cosa ci sta succedendo io mi domando? Cosa stiamo facendo ai nostri figli? Stanno veramente uccidendo in vita bambini e bambine? E ora parliamo di Richard Garner, eccolo qua. Questi sono i suoi libri, ovviamente in lingua era americano, Richard Garner è nato a New York, psichiatra forense statunitense, ideatore della controversa sindrome d'alienazione parentale, morì suicidandosi il 25 di maggio del 2003. Il figlio dichiarò in seguito che il gesto era motivato dallo sconvolgimento causatogli dalla diagnosi di distrofia simpatica riflessa. Dobbiamo occuparci delle vittime in vita, mi raccomando. E qui leggiamo insieme. Ma chi era Richard Garner? Garner si occupava in via esclusiva di cause di affidamento di minori durante il corso di separazioni conflittuali. Per anni ha voluto far credere di essere un professore psichiatra infantile presso la Columbia University, mentre in realtà era un semplice volontario non ritribuito, non era specialista, né psichiatra né in psichiatria infantile. Ecco qua alcune sue posizioni. Secondo lui l'abuso sessuale non è necessariamente traumatico. Pensate un po'. Secondo Richard Garner, tali padri, ossia quelli che ovviamente si avvicinano alla pedofilia, possono razionalizzare che la pedofilia è un'antica tradizione, una pratica diffusa nel mondo e che non c'è nulla per cui bisogna sentirsi in colpa. Tali padri devono essere aiutati a capire che anche se ciò che dicono su questo punto è vero, ciò non giustifica che ciò si possa praticare nella nostra società, anche se la nostra società reagisce in maniera esagerata a tali comportamenti. Insomma, siamo un filo preoccupati, però non dovremmo esserlo praticamente. E anche qui troviamo ancora Vittorio Vezzetti, lo vedete bene qua, spero. Eccolo qua che con la sua Figli per sempre, Adiantum, parla di Richard Garner. Ormai lo sappiamo tutti che i figli assumono spesso il ruolo di strumenti di combattimento. In una guerra di coppia che individua il genitore vittima e il genitore soccombente, violento e crudele. Con la PAS, con la PAS, lo scenario si capovolge e si capovolge drasticamente e non viene capovolto per amore o per meriti. I basici motivi sono due, vendetta e soldi. E' sufficiente che il bambino rifiuti il padre per dare via alla macchina degli errori. Non ci si concentra sul trovare i motivi che inducono un figlio a rifiutare il padre. No, no, non su quello. Con la PAS, con l'alienazione parentale, il rifiuto della figura paterna viene attribuito, la responsabilità viene attribuita completamente, esclusivamente alla madre. E pensate, viene attribuita alla madre che magari viene picchiata, insultata, umiliata. Il risultato? Il risultato è molto furbo. È molto furbo e dobbiamo smettere di far applicare questa furbizia in alcune aule dei tribunali. Si zittiscono le mamme e i figli in un solo colpo vengono trasportati a casa del padre. Le istituzioni, beh, su questo fronte sono ancora troppo impreparate. accettano passivamente valutazioni orientate di parte esperti, psicologi e psichiatri. Sono un po' troppo lasciati, imperano, loro imperano. E la loro parola è quasi Vangelo. Vi aspetto per la prossima puntata e vi aspetto perché? Perché c'è bisogno realisticamente di dare voce alle vittime. Basta lasciare i controllori senza un controllo efficace. Alla prossima!